Amici di Telemolise, bentrovati. Ultima edizione del nostro telegiornale. In apertura le consulenze regionali. Contrariamente a quanto promesso in campagna elettorale, anche l'era frattura è stata contrassegnata dal fenomeno delle consulenze particolarmente onerosa, quella affidata al consigliere giuridico del Presidente, l'Avvocato Carmela Lalli. L'incarico in vista delle elezioni a fine anno è stato rinnovato sino a febbraio. La legislatura però prosegue. Che ne sarà del consigliere giuridico? Ascoltiamo il servizio. Le delibere parlano chiaro. 72.000 euro all'anno di compenso, oltre 2.880 euro per oneri previdenziali e 16.473 euro e 60 centesimi per l'IVA. E questo è il prezzo della lauta consulenza affidata dal Presidente della Regione Paolo Di Laura Frattura all'Avvocato Carmela Lalli, nominata più riprese consigliere del Presidente della Regione per le attività giuridiche. Sulla perizia dell'Avvocato Lalli nulla a questio sulla effettiva utilità di una simile figura da più parti da tempo si inarca qualche sopracciglio, specie se si considera il fatto che Frattura prima nel 2011 e successivamente nel 2013 si era presentato agli elettori come una sorta di castigamatti pronto a dare battaglia sul fronte delle consulenze e come una sorta di mietitrebbia pronta a falciare postulanti e beneficiari infiltrati nelle larghe maniche della pubblica amministrazione. Alla fine anche su questo versante Frattura, che aveva promesso Cannonate, si è rivelato invece uno scherzo di carnevale specializzato nello sparetto a salve e coriandoli. Messa da parte la tanto sbandierata diversità, egli si è rivelato più uguale degli altri, anzi peggio. Restiamo al caso Lalli, ad esempio. Pur di prorogare la consulenza sino all'ultimo giorno della legislatura, Frattura il 29 dicembre del 2017, con l'ultima delibera dell'anno, ha rinnovato l'incarico alla sua consulente sino al 28 febbraio 2018. Salvo hanno scritto in delibera cessazione anticipata dalla carica del Presidente. Chiaramente a fine anno già si prevedevano elezioni in vista della scadenza naturale di febbraio. Poi le cose sono andate come sono andate, ovvero Frattura tanto ha ciurlato nel manico che è riuscito a far slittare, ad oggi sine die, la data delle elezioni. Anche quella del 22 aprile è una data fantomatica non confermata dal Ministero dell'Interno e come da più parti si sospetta, l'ipotesi più verosimile è quella di un election day a maggio in concomitanza con le amministrative. Che ne sarà della consulente giuridica ormai in scadenza imminente? Sapremo a giorni se l'incarico all'avvocato Lalli verrà nuovamente rinnovato dalla sua data di scadenza. A quel punto capiremo anche la data delle elezioni. Enrico Colavita, candidato al Senato per il Partito Democratico, ha parlato del suo programma elettorale, tanti gli argomenti, giovani, tasse, imprese, infrastrutture. Sentiamo Tonino Danese. I punti centrali del suo programma come candidato sul maggioritario al Senato per il PD Enrico Colavita li ha illustrati alla stampa a Campobasso, affiancato da Laura Venitelli in corsa al Senato e Micaela Fanelli alla Camera, presente anche Frattura. Conosco tutti i paesi del Molise e voglio mettere a disposizione la mia esperienza anche di imprenditore, ha detto Colavita. Occhio di riguardo per i giovani, formazione per la competitività, rete di imprese, rilancio del turismo agroalimentare, recupero dei borghi, infrastrutture, sicurezza del territorio contro infiltrazioni criminali, poli scolastici, punti su cui Colavita ha assicurato impegno concreto. I nostri giovani offriamo gli spazi che ci sono per stimolarli a misurarsi con vocazioni, con quello che potrebbero o vorrebbero provare a fare. Dopodiché una politica di attrazione e investimento, visto che nella nostra regione ci sono ancora le condizioni di vivibilità, di sicurezza, forse di infrastrutture meno, ma in alcune aree certo. Quando vedo le piane di Larino abbandonate con quella posizione strategica sulla costa e quindi con tutte le comunicazioni possibili, io dico ma com'è possibile? Non si coltivano neanche più quei terreni. Io andrò a chiedere al Vescovo di Termoli della disponibilità di terreni su cui imbiandare degli olivetti moderni e intensivi perché è triste vedere le abbandonate. Un passaggio con la vita lo ha dedicato anche al recupero e alla valorizzazione della cittadella dell'economia. Campobasso Quinti si è soffermato sulla flat tax che secondo lui penalizza il Molise. Qui non abbiamo altissimi redditi che potrebbero beneficiare della flat tax, qui abbiamo redditi medio-bassi che rischierebbero solo di essere penalizzati. Io sono per la progressività, per le aliquote progressive, chi più ha più è giusto che paghi. Poi tutte le decontribuzioni diamole anche alle imprese ma per il lavoro, per chi fa occupazione e quindi abbattimento del cosiddetto cuneo fiscale che sia un contributo alle imprese, uno stimolo ad incentivare l'occupazione ma sia anche una disponibilità di maggior reddito per i lavoratori. Così con la vita si è espresso sull'intervento pubblico nel privato. L'intervento pubblico nella gestione delle attività private o privatistiche rischiano, io non voglio generalizzare, ma rischiano di essere gestite ad uso e consumo proprio. E questo è inaccettabile, è un territorio povero di risorse e noi non possiamo tollerare che queste risorse vengano sottratte dalla disponibilità di chi ne ha più bisogno. E la candidata alla Camera dei Deputati di Liberi e Uguali, Giuseppina Occhionero, ha ribadito che turismo e agricoltura sono la spina dorsale dell'economia della fascia costiera. Due settori, ha dichiarato la Occhionero, alimentati anche da chi arriva da fuori i vacanzieri e i braccianti agricoli. L'accoglienza e la solidarietà, ha aggiunto, sono valori irrinunciabili come tutti quelli che mi hanno spinto ad accettare la candidatura per la lista Liberi e Uguali. Giuseppina Occhionero presenterà il proprio programma elettorale il 20 febbraio a Campomarino. E sempre per la campagna elettorale, la lista insieme ha presentato i propri candidati al Parlamento nella sede del Partito Socialista, la presentazione. Per noi c'era Anna Maria Di Matteo. La lista insieme presenta i propri candidati al Parlamento. Si tratta di Ernesto Lavecchia, candidato al Senato, Anna Dea Di Ciocco e Matteo Del Rico alla Camera. La conferenza stampa di presentazione ha nella sede del Partito Socialista la presenza del candidato del PD Enrico Colavita e del governatore Frattura. Il suo partito è stato il primo a parlare di candidature e a proporre la sua candidatura in maniera ufficiale rispetto agli altri partiti. Dunque, qual è il suo impegno per il Molise? Mi piace quello che lei ha detto all'inizio di questa intervista perché questo dà il senso di che cosa significa insieme e quindi una lista che non ha avuto problemi di doversi mettere d'accordo, di dover scendere a patti o di dover creare inciuci per poter fare le candidature. Le candidature sono state fatte a tempo debito e opportuno, scelti dalla base, concordati praticamente con il nazionale e portati a livello regionale. Noi siamo pronti praticamente per dimostrare quello che comunque le tre liste che si vedono all'interno di insieme hanno nel loro background e nel loro DNA. Il Partito Socialista da parte praticamente dei lavoratori e quindi del lavoro e quindi nel ristrutturare questo tipo di problema. Sicuramente i Verdi per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente e praticamente le liste civiche per il rispetto del territorio. Tutte e tre insieme hanno praticamente la possibilità di avere una forza univoca per cercare di portare sul territorio alla gente proposte concrete e non promesse da Marilai. Qual è la vostra posizione in merito agli altri partiti del centro-sinistra? Rispetto al partito del centro-sinistra noi siamo stati sempre un attimino critici su alcune posizioni anche del PD che concordiamo e con cui stiamo all'interno della stessa coalizione. Però probabilmente forse alcune cose potevano essere fatte in maniera diversa. Quindi quello che ci è piaciuto è stata la determinazione, quindi la capacità di fare e non soltanto di dire. E considerando che il Partito Socialista è un partito del fare sicuramente questo ci interessa. avremo poi la possibilità di migliorare e di correggere il tiro su alcune posizioni penso agli 80 euro, penso a tutte quante quelle cose che sono state messe in piedi che possono essere la base per poter fare un discorso per il futuro. Ci siamo e insomma noi oggi iniziamo la campagna elettorale chiediamo un voto per noi, per la lista insieme ma lo chiediamo anche per la coalizione. Questo è un sistema elettorale che lega a doppia mandata le liste proporzionali con l'unominale si vince e si perde insieme e quindi facciamo questa battaglia sapendo che noi siamo stati una forza di governo responsabile negli ultimi 5 anni del Paese e credo che gli italiani hanno tutte le condizioni per poterci riconfermare la loro fiducia. L'alternativa sarebbe le destre e l'avanzamento di forze populiste che porterebbero soltanto a una lacerazione del Paese. Spese dei gruppi, sentenza ribaltata a Campobasso per l'ex consigliere regionale del PDL Francesco Di Falco, assolto ieri dalla Corte d'Appello dopo essere stato condannato in primo grado a sette mesi per truffa aggravata nei confronti della Regione. Le accuse contestate in primo grado che parlavano di circa 1.500 euro spesi nel 2009 senza una adeguata giustificazione sono cadute dinanzi alla Corte presieduta da Vincenzo Popilella che ha assolto l'ex consigliere regionale difeso dall'Avvocato Antonio De Michele. Dieci anni di piano di rientro per il deficit sanitario hanno messo a rischio i livelli di assistenza essenziali in Molise. La Regione è carente soprattutto nei servizi per gestire la cronicità, disabilità e non autosufficienza. A dirlo è il report di cittadinanza attiva sull'assistenza domiciliare integrata presentato a Roma. Ascoltiamo Marta Martino. Il Molise presenta ancora numerose criticità nel campo dell'assistenza domiciliare integrata. A dirlo è il rapporto di cittadinanza attiva presentato a Roma. Tra queste fa presente Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato. La Regione ha ancora tanto da fare per gestire la cronicità, la disabilità e la non autosufficienza. L'attenzione va spostata sul territorio e sulle fragilità, vera emergenza dei pazienti e delle loro famiglie. Vanno potenziati i servizi residenziali e semiresidenziali, troppo pochi in Molise. Insomma, i dieci anni di piano di rientro per il deficit sanitario e blocco del turnover si fanno sentire di ciaceti, ma i servizi ai cittadini vanno garantiti e bisogna darsi da fare. In Regione ci sono una sola struttura di hospice, con 16 posti letto, 3 centri diurni di salute mentale e un centro diurno per pazienti con Alzheimer, decisamente troppo pochi a fronte delle necessità. Secondo il report di cittadinanza attiva, il 65% dei cittadini si ritiene comunque mediamente soddisfatto del servizio di assistenza domiciliare ricevuta e il 24% si dice molto soddisfatto. Promossa a pieni voti la disponibilità e professionalità di infermieri e medici di famiglia, ma non l'elaborazione dei piani di assistenza individuale. Tra i desideri espressi dai pazienti, il 49% vorrebbe a casa un operatore socio-sanitario, il 64% vorrebbe un medico specialista e il 79% riterrebbe utile un servizio di supporto psicologico. Il 94% dei pazienti familiari ha dichiarato di non essere stato formato a gestire il dolore. Altro punto dolente in Molise è l'integrazione della spesa per l'assistenza a domicilio. Solo il 27% spende meno di 100 euro al mese, il 35% degli intervistati ha dichiarato di spendere anche 200 euro al mese, il 16% fino a 400 e il 4% oltre 1000 euro. Alla domanda cosa cambierebbero per migliorare il servizio, il 79% dei pazienti ha chiesto maggiori verifiche e controlli sul servizio da parte dell'azienda sanitaria. Il 41% vorrebbe essere coinvolto nella definizione del piano di assistenza, il 29% chiede maggiore facilità di accesso al servizio, il 24% la rapidità nell'avvio. Ancora una volta uguali il Comitato di lotta per i diritti dei disabili in protesta davanti alla sede della Giunta regionale per rivendicare la corresponzione dei contributi alle famiglie di portatori di disabilità gravi e gravissime. Dal 2015 non hanno un minimo di assistenza diretta, hanno spiegato i portavoce del Comitato. Chiediamo ancora una volta a Fratture e Facciolla di dare conferme e certezze su quanto promesso. L'accordo stabiliva un acconto per il 2015 da erogare alle famiglie tra Natale e Capodanno, ha spiegato Emilio Izzo, attingendo ai residui pari a 200 mila euro e che il saldo andava recuperato nel bilancio in corso, ma niente ancora è stato fatto. Ci sentiamo abbandonati, ha detto ancora i rappresentanti del Comitato Uguali. Sono 3 mila i metri di nuove condutture concessi dalla società 2i al Comune di Sernia per portare il gas metano nelle borgate. L'annuncio del vice sindaco Cesare Piertrangelo, che ha spiegato tutti i dettagli questa mattina a Palazzo San Francesco. Il servizio è di Enzo Di Gaetano. L'amministrazione da Pollonio mantiene la sua parola nei confronti dei residenti nelle borgate. Infatti arriva il gas metano in altre 5 frazioni del Comune di Sernia. Lo ha comunicato il vice sindaco Pietrangelo in una conferenza stampa in cui ha annunciato anche un altro vantaggio per le famiglie residenti nelle borgate isernine, quello di un forte sconto nei costi per l'allaccio. Siamo riusciti ad ottenere, a seguito di una serie di incontri con la società che attualmente gestisce la rete metanifera sul territorio, 3 mila metri che saranno realizzate nel giro di brevissimo tempo. Forse già nel giro di 30 giorni inizieranno i lavori. Le località interessate, che abbiamo ritenuto, poiché sono le più svantaggiate, sono le località Corrado, Fonte Costanza, Breccelle, Asinina, San Lorenzo e Fragnete. Anche perché qui c'erano state fatte, reiterate, più richieste proprio per l'allaccio alla rete metanifera. Sono 3 mila metri che andranno sicuramente a portare un livello qualitativo della vita migliore anche nelle zone più periferiche della città. Stiamo attenti a tutto e quindi non cerchiamo di trascurare assolutamente nessuno. La seconda agevolazione, quella che siamo riusciti ad ottenere, è il contributo di allaccio sulla rete metanifera di nuova costruzione e, soprattutto ci tengo a sottolinearlo, sulla rete metanifera già posata in essere, cioè quella costruita già nel passato. La notizia è questa, che a fronte dei 1.500 euro previsti oggi, più IVA, per quale contributo per l'allaccio, siamo riusciti a strappare alla società una riduzione che porta il cittadino a fare domanda e pagherà 200 euro più IVA. Quindi a fronte di 1.500 euro, chi fa oggi la domanda per allacciarsi alla rete metanifera pagherà 200 euro più IVA, sempre che venga fatta entro il 30 giugno 2018. Incidente nel pomeriggio lungo la tangenziale di Termoli all'altezza dello svincolo di difesa grande. Per cause da accertare si sono scontrati uno scooter e un furgone. Il giovane in sella alla moto è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santimoteo di Termoli in codice rosso. I medici del pronto soccorso l'hanno sottoposto agli accertamenti per verificare la gravità dell'impatto sul posto 118, Misericordia, Carabinieri e ANAS. Se non verranno ripristinati gli sgravi contributivi per il settore della pesca, sarà un disastro per l'intero. Comparto è l'allarme lanciato dall'Alleanza Cooperative Pesca in tutta Italia che annuncia la mobilitazione e si appella a governo e forze politiche. Sentiamo Tonino Danese. L'Alleanza Cooperative della Pesca verso lo Stato di agitazione con l'annuncio di manifestazioni e proteste in tutta Italia, il settore si mobilita e lancia un'allarme in vista della prima scadenza imminente il 16 febbraio con il versamento dei contributi INAIL. I pescatori chiedono il ripristino degli sgravi contributivi per il comparto, quelli previsti dalla legge 30 del 1998. Altrimenti, dicono, sarà un disastro per tutti noi. Per Domenico Guidotti di Federco Pesca Molise, l'aver cancellato con un colpo di spugna, un regime contributivo che era in vigore da 20 anni ormai, ha destabilizzato l'economia del settore. Le imprese continua, dall'oggi al domani, sono costrette a pagare contributi all'Inps, l'Istituto di Previdenza Sociale, e a quello di assicurazione infortuni sul lavoro, l'INAIL, maggiorati anche del 50%, così come si evince da recenti disposizioni le quali prevedono la sospensione degli sgravi per la pesca. Una situazione che gli operatori del settore considerano insostenibile e da sanare. Siamo a un punto di non ritorno. Sostengono ancora e si rivolgono direttamente al governo e a tutte le forze politiche, affinché diano una risposta che vada al di là delle soluzioni tampone valutate fino a questo momento. In sostanza, chiedono risposte certe che vadano anche oltre le semplici promesse. I tempi stringono e servono quindi azioni concrete. Se perdura questa situazione, evidenzia, facendo esempi guidotti di Federco Pesca Molise, un'impresa su due sarà costretta a chiudere e a subirne. Le conseguenze maggiori a farne le spese saranno le cooperative di pescatori. Un grido di allarme che il settore non vuole cada nel vuoto e per questo ha annunciato lo stato di agitazione e manifestazioni di protesta in tutta Italia. Sequestrati 60 grammi di droga suddivisi in dosi trovati nelle suole di un paio di scarpe spedite tramite corriere a un detenuto in carcere. Al Rino la scoperta è della polizia penitenziaria coordinata dal commissario Francesco Maiorano. Gli agenti hanno rinvenuto la droga. Una quarantina di pezzi tra ascisce e marijuana incollati alle suole delle calzature. La droga era destinata allo spaccio dentro l'istituto di pena. Il quantitativo può considerarsi rilevante considerando che era destinato ai detenuti. Nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a San Giovanni Rotondo i funerali di Padre Eusebio Notte il religioso francescano nativo di Castelpetroso che fu molto vicino a Padre Pio il servizio di Michele D'Alessio. Erano in tanti nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a San Giovanni Rotondo per l'ultimo saluto a Padre Eusebio Notte, il frate francescano di Castelpetroso ordinato sacerdote nel 1957 per anni docente di tanti seminaristi predicatore di grande profondità ed una parentesi, cinque anni che ha cambiato in qualche modo la sua vita. Poter ricordare e parlare dei propri amici è bello e arricchente. Se poi l'amicizia è stata condivisa con un santo tutto diventa straordinario. Chiunque abbia incontrato Padre Eusebio ha potuto subito comprendere la profondità del suo legame con Padre Pio quei cinque anni compresi tra il 1960 e il 1965 che Padre Eusebio ha trascorso qui a San Giovanni Rotondo inviato dall'obbedienza come corrispondente della lingua inglese e poi come assistente personale di Padre Pio l'hanno reso testimone in defesso dell'umanità, del ministero e della spiritualità del suo e nostro santo confratello. Non ha mai perso il legame con le sue origini ed il sindaco di Castelpetroso lo ha voluto sottolineare. Quello che Padre Eusebio ha rappresentato per la comunità di Castelpetroso lo abbiamo visto nel passato lo vediamo nel presente e lo vedremo nel futuro perché le parole che Padre Eusebio ha lasciato per cinquant'anni di predicazioni su Castelpetroso anche con incontri a volte anche personali rimarranno. Il filo diretto con Padre Pio non si è mai interrotto ed i gruppi di preghiera voluti da santo si sono moltiplicati ed arricchiti di sempre nuovi proseliti. Ed è stato per qualche modo un po' il preferito di Padre Pio perché c'era tra di loro un'intesa molto forte erano molto in sintonia quindi Padre Pio si sentiva sicuro con la presenza di Padre Eusebio e per noi era un testimone uno degli ultimi testimoni qualificati della vita di Padre Pio che ancora aveva tanto da testimoniare con la sua predicazione anche molto bella molto efficace e comunque che ha lavorato tantissimo soprattutto direi anche tra i gruppi di preghiera di Padre Pio dove è stato sempre e dove è molto conosciuto molto stimato dovunque perché lui ha girato l'Italia ha visitato i gruppi ha lavorato tanto anche per i gruppi di preghiera e per i devoti in genere di Padre Pio Saranno rinviate al prossimo weekend le manifestazioni del Carnevale Larinese previste per domani e dopodomani la decisione è stata presa in base al bollettino meteo che prevede possibilità di pioggia temporali e vento moderato rinviata anche la premiazione delle maschere partecipanti al Carnevale prevista per martedì 13 febbraio al Teatro Risorgimento domani pomeriggio al proscenio nel centro storico di Sernia prenderà il via la rassegna a teatro con mamma e papà sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Sergio Di Vincenzo dopo aver portato a teatro i ragazzi delle scuole superiori la compagnia Cast di Sernia ha ideato un cartellone di eventi dedicati anche ai più piccoli il primo appuntamento con la rassegna a teatro con mamma e papà e per domani pomeriggio al proscenio il piccolo e accogliente laboratorio teatrale attivato da qualche anno nel centro storico mi sembrava opportuno dedicare anche una parte e una rassegna completamente diversa ai bambini per farli avvicinare al teatro cominceremo con la serva padrona che è un'operetta è in musica però l'abbiamo resa fruibile ai bambini non è musicale insomma è in prosa poi probabilmente ci saranno se va bene la prima faremo altri spettacoli invitando altre compagnie che ci hanno già proposto il mago di Oz Alice nel paese delle meraviglie speriamo che vada bene come sta andando bene da ormai otto anni la rassegna dedicata ai più grandi il primo appuntamento come già accennato è per domani sabato 10 febbraio a partire dalle 17.30 con la serva padrona è un'opera buffa poi c'è un il servitore che è diventata una maschera non parla è un personaggio muto però proprio per questo interagisce con gli altri due personaggi perché siamo siamo in tre e interagisce interagendo poi si creano delle situazioni grottesche comiche l'altro quello che subisce soprattutto è Giovanni che fa il padrone ma in genere in queste operette il padrone è quello che subisce continuamente bene con questo è tutto si chiude qui l'ultima edizione del nostro telegiornale l'appuntamento è per domani mattina a voi tutti l'augurio di una buona notte grazie a tutti Grazie a tutti.